Ciao a tutti, sono Cristina Zavoli, Master Crystal Nails. Oggi vi parlerò del semipermanente One Step, l'unico semipermanente pronto in un solo step. È un prodotto incredibilmente facile e veloce da utilizzare e dà la resistenza da 1 a 2 settimane. Non è necessario utilizzare né la base né il top per sigillarlo perché grazie alle sue proprietà di pigmentazione e consistenza si mantiene lucido nel tempo garantendo un colore sempre brillante. Le proprietà di questo prodotto permettono una rapida applicazione con l'utilizzo del prodotto No Buffer Scrub per una preparazione dell'unghia più facile e rapida. La sua formulazione ricca di vitamina A e vitamina E aiuta a preservare il benessere dell'unghia naturale, disponibile nei formati da 4 ml e 8 ml. Ora vi mostrerò come eseguire una preparazione e una corretta applicazione di One Step. Dopo aver eseguito la manicure e regolato la lunghezza, procediamo all'applicazione di Spray Prep, sia sull'unghia sia sulla lamina ungueale. Vediamo un'immediata evaporazione del liquido, dopo di che procediamo con l'applicazione di Nail Prep. Andiamo ad applicare abbondantemente sulla lamina grazie al pratico pennellino. L'ultimo prodotto da applicare è No Buffer Scrub, un liquido per la preparazione che contiene anche una parte di primer acido. Andiamo a bagnare un pad e a passarlo perfettamente su tutta la lamina ungueale. La lamina è stata precedentemente opacizzata attraverso questo buffer, si chiama buffer anima rosa e abbiamo utilizzato per rendere porosa la lamina il lato con la scritta. Per questa applicazione ho scelto il One Step numero 73, un rosso meraviglioso. Adesso andiamo a vedere come è facile applicarlo. Scarichiamo l'eccesso di prodotto nel collo della bottiglia e andando a premere il pennello vicino alla zona cuticolare andiamo a coprire tutta quanta la superficie con il nostro pennellino. Se preferite, vi trovate meglio, potete anche utilizzare un pennello a parte. Questi di One Step sono fatti apposta per eseguire una applicazione molto precisa. Vedete che la parte del terminale del pennello è arrotondata e questo permette di eseguire una stesura anche vicino la zona cuticole in modo impeccabile. eseguiremo una seconda stesura per rendere il colore ancora più marcato e più deciso. Poi vi farò vedere come sarà già lucido da solo ma volendo possiamo amplificare la lucentezza grazie all'applicazione di un top lucido oppure opaco. In questo caso andrò ad applicare il cool top. stendiamo il colore sempre molto in modo molto molto sottile per non rischiare difficoltà di polimerizzazione. Andiamo ad agganciare il materiale in punta tempo di polimerizzazione 60 secondi per ogni strato e ulteriori 60 secondi per i il top. Vorrei precisare che alcune colorazioni di One Step saranno già coprenti anche solo con uno strato. Altri tipi di altri colori necessitano invece per ottenere un effetto come in questo caso bello pieno il colore bello deciso e perfettamente coprente sono necessari due passaggi di colore. ma per alcune tonalità sarà sufficiente anche solamente un solo un solo passaggio. Ricordiamo che con One Step il terzo strato diciamo di top sarà opzionale mentre invece con i semi permanenti tradizionali il top è obbligatorio. Andiamo ad applicare il nostro sigillante top cool anche questo lo mettiamo in maniera sottile andando a coprire bene tutta quanta la superficie. chiudiamo la punta e ridistendiamo nuovamente. ok polimerizziamo 60 secondi led oppure due minuti UV di d' Grazie.